Ecco le entrate in campo, ci troviamo a Rapino, gara del campionato giovanissimi, tra Rapino calcio e Virtus Castelfrentano, la Virtus Castelfrentano con la seconda maglia ufficiale, bianca con gli svolti giallorossi, mentre il Rapino con il nero verde, il direttore di gara e della sezione di Chieti, si salutano, si trovano nelle effettive panchine, andate alle panchine, il pubblico delle grandi occasioni, in bocca al lupo, crepi il lupo, bravi ragazzi, state pure al fresco. Grazie. Grazie.